Salve a tutti fratelli e sorelle, benvenuti nel nuovo appuntamento di messaggi e profezia. Dio vi benedica e sia lotato nostro Signore Gesù Cristo, sia fatta la sua santa e divina volontà, lode e gloria a Cristo e Ave Maria. Come vedete dalla locantina, dalla miniatura, vedete tre fasi scisma, cioè ci sono tre fasi di questo scisma. Andiamo a vedere un messaggio che arriva da Gesù Cristo, Gesù all'umanità, e fa capo a queste tre fasi. Andiamo a vedere che cosa si legge in questo messaggio. E siamo al 20 ottobre del 2013, quindi siamo sei anni fa, più o meno. Mia amata, amatissima figlia, andate tutti nel mondo e diffondete i Vangeli, perché dovrete farlo prima che la persecuzione della mia Chiesa inizi sul serio. Dovete riporre tutta la vostra fiducia in me ed essere consolati sapendo che quando verrà il grande giorno, sarete sollevati in corpo ed anima tra le mie braccia in un batter d'occhio. Questo è il motivo per cui voi dovete con amore e pazienza ricordare al mondo i miei insegnamenti. Ricordate alle persone che il peccato esiste e sarà perdonato, ma prima devono chiedermi perdono. Nonostante si racconti loro che il peccato è un istinto naturale dell'uomo, essi devono sapere che in qualità di figli di Dio, devono chiedere ogni singola volta la riconciliazione, indipendentemente da quanto insignificanti possono essere i loro peccati. Il peccato è ciò che vi separa da Dio. Voi più peccate, più malvagi diventerete. Voi provete l'angoscia più profonda e vi sentirete così inquieti che niente, se non la mia grazia, alleverà il vostro dolore e vi darà la vera pace. Sappiate che quando il regno dell'eresia avrà inizio, proprio coloro che staranno coinvolti in essa proveranno una deprimente e terribile solitudine. Eppure, agli occhi del mondo sembrerà che ogni cosa sia accettabile per la Chiesa, mentre voi combatterete dall'interno tutti i rituali esteriori che vengono svolte in nome di una Chiesa mondiale unita, vi faranno sentire a disagio. Entro sei mesi da quando l'eresia sarà introdotta nella mia Chiesa, molti di coloro che avranno ignorato la mia chiamata, fuggiranno e cercheranno quelli che sono rimasti fedeli alla mia Santa Parola. Allora il mio esercito si ingrosserà, crescerà e raccoglierà i rimanenti di tutte le Chiese cristiane e combatterà contro lo spirito del male. Lo scisma nella mia Chiesa si dividerà in tre fasi, in diverse fasi. La prima fase si avrà quando solo quelli che veramente mi conoscono e comprendono la verità dei Santi Evangeli decideranno di non poter accettare delle menzogne nel mio nome. La seconda fase avverrà quando le persone verranno negate i Santi Sacramenti, così come erano stati istituiti. La terza fase si avrà quando le mie Chiese saranno state profanate e quando i miei servitori consacrati comprenderanno finalmente la verità contenuta nel Libro della Rivelazione. Quindi ci sono tre fasi, come avete sentito. La prima, come avete detto, ve lo ripeto, si avrà quando quelli che veramente mi conoscono e comprendono la verità dei Santi Evangeli decideranno di non poter accettare delle menzogne nel mio nome. La seconda fase è quando alle persone verranno negate i Santi Sacramenti, così come sono stati istituiti. E la terza fase si avrà quando le mie Chiese saranno profanate e quando i miei servitori consacrati comprenderanno finalmente la verità contenuta nel Libro della Rivelazione dell'Apocalisse. I miei profeti non mentono. A loro non piace ciò che gli viene chiesto di fare. Esse rivelano solo la mia Santa Parola e quant'altro venga ordinato loro di fare tramite la Santa Volontà del Padre mio. I segni che l'ultimo profeta è ora giunto, il solo oggi ad aver ricevuto il permesso dal Cielo di preparare il mondo alla seconda venuta, sono qui. Quando capirete che le profezie rivelate al mondo da parte del Cielo che ugualcono a questo far crescere la vostra fede e fare in modo che restiate fedeli alla mia Santa Parola, allora voi le accetterete. Quando si avverranno così come vengono rivelate, allora riconoscerete la verità. Siate pronti, siate in pace perché io cammino con tutti voi che ora voi vi raccogliete per formare il mio esercito rimanente sulla terra, il vostro Gesù. Quindi ecco questo è un messaggio abbastanza, avete capito, c'è poco altro da aggiungere fratelli e sorelle, quindi bisogna prepararsi e pregare molto. Dio vi benedica, sia lotato nostro Signore Gesù Cristo, sia fatta la sua santa e divina volontà, lode e gloria a Dio Padre Onipotente, a nostro Signore Gesù Cristo, Ave Maria. Se volete, se potete, diffondete questi messaggi e ovviamente la Santa Parola di Dio, ovviamente iscrivetevi se non l'avete fatta ancora a Pietro Paolo Trinità e Pietro Paolo Trinità 2. E anche la nostra cara sorella con cui collaboriamo e siamo gemellati con Soldati di Maria. Mettete commentate, mettete like se volete ovviamente, proprio per incrementare la visualizzazione agli altri, ai fratelli e agli altri fratelli e sorelle, sia lontani che vicini che sono. Ma cerchiamo di pregare, 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 anzi preghiamo, preghiamo, preghiamo. Dio vi benedica, sia lotato Gesù Cristo e Ave Maria.